e quindi se sei disponibile sabato ci possiamo vedere per uscire insieme ci andiamo a mangiare tipo una pizza scusa ma cosa fa? chemi mi ho fatto l'offerta così dicevo lo posso passare magari anche immobile chemi! 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 aspetta che ce lo vedo così c'è chemi il mio nipote che non può telefonare può condurliare per favore vedo che ci sono problemi con la cellula Kevin! Kevin! ma hai problemi con la cellula? un attimo consigliarsi meglio addirittura risulta che la cellula è morta Kevin! Kevin lo sai tu ma comunque la cellula è morta è di un marito! Kevin! 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 si baccerà Pedro con la verde luna la abbracciava sulle casse sulle casse di nitroglicerino